Musica Benvenuti cari telespettatori a questa nuova edizione del nostro videogiornale. Apriamo con l'attività dei Carabinieri del Comando di Vercelli con i risultati operativi dell'ultimo anno. In occasione delle celebrazioni del 5 giugno, 209 anniversario di fondazione dell'arma dei Carabinieri, sono stati resi noti i risultati operativi degli ultimi 12 mesi conseguiti dagli Carabinieri del Comando Provinciale di Vercelli, che è stato specificato, perseguono circa il 70% dell'intera attività delittuosa provinciale. Nel corso dell'ultimo anno in provincia l'arma ha proceduto per 3.417 reati, quindi siamo in linea con l'anno precedente. Elevato il dato dei reati scoperti, il 32% rispetto al 25% che è la media nazionale. Le persone deferite all'autorità giudiziale sono state 1.387, di cui 117 sono state arrestate. Il 23,07% di questi sono stranieri. Il 34% dei reati perpetrati sono contro il patrimonio e siamo al di sotto della media nazionale, che è del 40%. I furti rappresentano il 32,25% del totale dei delitti. Di questi vengono scoperti il 10% e anche qui siamo in molto superiori per quanto riguarda il dato nazionale, che è invece del 5,43%. L'attività di contrasto ha permesso di identificare oltre 100 soggetti. Circa il 17% dei reati perseguiti dall'arma in provincia è rappresentato da truffe e frodi informatiche. Nuovo fronte del crimine che trova spazio nelle nuove abitudini quotidiane degli acquisti online. L'attività preventiva negli ultimi 12 mesi ha permesso di comandare oltre 17 mila servizi preventivi. In particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dei reati cosiddetti di violenza di genere, ossia maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Negli ultimi 12 mesi, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è in aumento il numero delle denunce, quindi è un dato positivo. Ci sono 43 reati di atti persecutori, quindi siamo a più 160% rispetto allo scorso anno. Sono straniere circa il 12% delle vittime. 63 reati di maltrattamenti in famiglia e anche qui è aumentato il numero, più 124,24%, 15% di questi sono in un contesto straniero. Dei 92 soggetti deferiti per queste violenze, il 16% sono stranieri e ben oltre l'80% sono stati sottoposti a misure restrittive della libertà. Parliamo di edilizia scolastica sul territorio. Le novità? Interventi significativi sia per il diretto e cospicuo finanziamento con fondi propri dell'ente, sia anche per la restituzione di nuovi spazi alla didattica a favore delle scuole di nostra competenza del territorio. Questo è il commento del consigliere delegato all'edilizia scolastica della provincia di Novara, Andrea Crivelli, che spiega con queste parole il completamento nelle settimane scorse delle procedure curate dal servizio edilizia per l'affidamento dei lavori relativi a due importanti interventi nelle scuole del territorio, per i quali si era già proceduto anche con l'affidamento della direzione dei lavori e che saranno dunque, pertanto, cantierati nei prossimi mesi. La prima opera è quella sull'isfermi di Arona, dove sono stati affidati i lavori riguardanti la ristrutturazione della biblioteca, della Lamagna e del laboratorio di scienze. Riguardano la copertura, la rimozione dei lucernai che avevano generato la problematica di infiltrazioni, la realizzazione di nuove aperture di finestre e porte che consentiranno l'adeguata illuminazione e areazione degli spazi, quindi conseguente suddivisione interna dei locali e poi adeguamenti impiantistici e realizzazione delle necessarie uscite di emergenza. Il quadro economico complessivo di questi interventi, di oltre 500 mila euro, consentiranno il ristanamento degli ambienti e la loro rifunzionalizzazione per l'uso da parte degli studenti e del personale scolastico. All'OMAR di Novara, invece, programmato l'intervento per oltre 300 mila euro sull'ex falegnameria. Si tratta di uno spazio storico dell'istituto inutilizzato, pericolante da molti anni, che verrà restituito alla didattica grazie ad un intervento complessivo di restauro che prevede la sistemazione della copertura, il consolidamento strutturale, il restauro conservativo dei serramenti, la sostituzione delle pavimentazioni, la realizzazione impiantistica, il risanamento degli intonaci e la riqualificazione dell'ampio spazio interno. Interventi comunque attesi e importanti, resi possibili dalla sinergia portata avanti con la consigliera Monia Mazza. Ci spostiamo in Valsesia perché i piccoli commercianti possono accedere ad un bando per ottenere finanziamenti a fondo perduto per il miglioramento delle loro attività. E dunque i dettagli in questo servizio. È stato pubblicato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto agli esercizi commerciali micro e piccoli del territorio valsesiano. A disposizione ci sono 312.500 euro che verranno divisi tra i progetti ammessi. Il bando è pubblicato all'albopretorio e sul sito istituzionale del comune di Varallo e sui siti del partner del distretto. Per partecipare occorre presentare domanda telematica tra le 10 del 16 giugno e le 16 del 31 luglio. Nelle prossime settimane verranno organizzati degli incontri informativi informativi a Scopello per i commercianti della Val Grande e a Rimasco per i negozi della Val Sermenza. Le spese ammissibili sono di varia natura. Si può presentare domanda di finanziamento per interventi di ammodernamento e miglioramento dell'esterno delle attività commerciali. Per esempio vetrine, deori, insegne, facciate, pergole, tende, illuminazione. Interventi per l'ammodernamento delle attività su area pubblica come l'acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchi per nuove attività avviate non oltre un anno prima della data di pubblicazione del presente bando. Le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse. Il contributo è concesso automaticamente. Le domande ammesse saranno finanziate in ordine cronologico di ricezione fino a esaurimento dei fondi sulla base della ripartizione territoriale dello stanziamento che prevede 92.500 euro ciascuno per i comuni di Cuarone e Varallo, 75.000 per Alagna, 1.000 per Piode, 5.000 per Rossa, 1.250 per Vocca, 42.500 euro per gli altri comuni del distretto. Regaldi e la pubblicazione benefica, supporto a Stelle sulla Terra. Sono in compagnia di Annarella Sais, che è il revisore dei conti dell'Associazione Stelle sulla Terra. Ci racconta come opera ogni giorno questa associazione fatta di volontari, di cuori che battono e che vi aspettano per un grande evento il 10 giugno. Corretto, ci aspettiamo tutti, il 10 giugno c'è questo grande evento presso la sala polivalente del Comune di Cameri, vi aspettiamo numerosi per vedere quali sono le iniziative e quali sono le attività che vengono svolte dall'Associazione Stelle sulla Terra. Stelle sulla Terra è nata come embrione nel 2006 su idea di un paio di volontari che volevano dedicarsi alle persone disabili. Questa cosa che è partita un po' così come un'idea, ma che aveva già un obiettivo futuro molto importante, è cresciuta e nel 2010 è stata costituita l'Associazione Stelle sulla Terra. L'Associazione ovviamente alla partenza è stata un po' poche persone, pochi disabili e voglio dire, faccio fatica a definirli disabili, perché questi ragazzi poi invece ci danno tantissimo, sono delle persone che hanno delle loro capacità, che ci trasmettono e che riusciamo a inglobare, a mescolare con le nostre capacità e devo dire che ci danno veramente tanto. Allora questo sarà il racconto dello scambio reciproco e della volontà di trascorrere del tempo insieme con i laboratori, con le attività previste. Seguitevi sulla pagina social, contribuite come potete, troverete anche i libri, le pubblicazioni di Felice Paolino D'Amico su Regaldi e questo avverrà il 10 giugno. Rotary Orta e Comune insieme per Orte in Arte. Rotary Club Orta San Giulio, unitamente al Comune di Orta San Giulio, anche quest'anno si è impegnato nell'organizzazione di Orte in Arte. Questa manifestazione di cultura e arte per valorizzare Orta è il bellissimo Sacromonte dedicato a San Francesco. Inoltre quest'anno il Rotary Club Orta San Giulio, insieme al Distretto 2031 e i club di Borgomaniero Arona, Pallanza Stresa e Gattinara, hanno finanziato l'illuminazione di due cappelle del Sacromonte, l'illuminazione interna, per fare in modo che chiunque, in qualsiasi momento della giornata o dell'anno, entrando in queste cappelle, possa ammirarle in tutto il loro splendore. Lunedì mattina, Florence Gavinelli, studentessa del Liceo Casorati, ai campionati sportivi studenteschi nazionali, si è classificata prima nella danza sportiva. E' stata dunque premiata per l'ottimo risultato ottenuto dal referente territoriale per l'Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva, Angela Conti. Nella danza sportiva, la studentessa Florence Gavinelli, del Liceo Artistico Casorati, ha vinto in sede provinciale, poi ha vinto anche in finale regionale, si è qualificata per quelle nazionali e è stata raggiunta proprio il titolo più alto di campionessa nazionale. E' una ragazza stupenda, è una ragazza con dei talenti incredibili, che sa mettere a frutto nella sua passione sportiva e anche nella didattica a scuola. E' veramente una studentessa a 360 gradi, impegnata e consapevole di quanto può dare e volonterosa nel realizzare tutto quello che può dare. E' veramente un successo incredibile, dietro al quale c'è tanto lavoro. Sono andata al Liceo Casorati perché il dottor Palvetti, il dirigente scolastico, aiutato dalla professoressa De Paulis, ha organizzato un momento di ringraziamento dedicato tutto a questa loro studentessa, Florence Gavinelli. Sabato e domenica scorsi al Centro Sportivo Amos ha avuto luogo l'attesissimo esame delle cinture di Aikido per gli atleti dai 3 ai 12 anni. Come di consueto a fine dell'anno accademico c'è il tanto atteso per i ragazzi ma anche per i maestri esame delle cinture, un momento di verifica su quanto è stato appreso durante l'anno. Sì, oggi è il tocco finale di un lavoro di tutto l'anno. I bambini sono molto tesi però riescono a gestire questa emozione con molta tranquillità, molta facilità. Hanno degli esercizi proprio mentali per poter controllare queste emozioni che deve essere un giorno di gioia perché per loro è un passaggio di grado, passaggio di cintura, vuol dire anche una crescita oltre che fisica interiore. Il giorno dell'esame è un momento particolare, non è come quello di scuola, però ho capito che per loro è molto importante. Sono arrivati molto agitati ma adesso questa agitazione sono riusciti a controllarla completamente. Anche il fatto poi di essere tutti insieme, anche se l'esame singolo può aiutare anche i più piccoli. Sì, infatti ieri pomeriggio abbiamo fatto fare gli esami dei più piccolini dai 3 ai 5 anni. Questa mattina i B1 che li abbiamo catalogati dai 6 agli 8 anni, oggi abbiamo i B2 dai 9 ai 12. Ecco che naturalmente ogni esame completamente diverso devono dimostrare attraverso la tecnica proprio la gestione del proprio corpo in armonia e in coordinazione in un modo completamente diverso dagli esami che sono stati dati ieri o questa mattina. E dunque ascoltiamo le voci di alcuni maestri di Aikido presenti al centro sportivo AMOS. Abbiamo cominciato ieri con i più piccolissimi che noi chiamiamo B0 sono dai 3 ai 5-6 anni. È andato molto bene erano tutti come sempre emozionati e hanno dimostrato di aver appreso e imparato tutto ciò che gli è stato insegnato in questo anno. Si sono anche molto divertiti perché quello che conta è che si divertano questi bambini anche nel momento dell'esame che lo sentono molto. Oggi è il secondo giorno dove c'è il numero maggiore. Abbiamo i B1 e i B2. I B1 sono stati fatti questa mattina e è andato benissimo anche per loro e hanno dimostrato le loro capacità e è stato un bel momento. I genitori sono rimasti completamente soddisfatti. È molto importante il giudizio del genitore che ha fiducia in questo centro. E oggi terminano anche con il gruppo dei B2 più grandicelli per quanto riguarda i bambini. Gli esami sono andati tutti bene. i B2 sono un numero maggiore sono 40. Ci hanno impegnato parecchio. Durante l'esame i bambini rivedono e ripresentano i loro genitori e i maestri che li hanno seguiti durante tutto l'anno la ginnastica e alcune delle tecniche che sono state scelte in modo appropriato dal maestro Bruno e dal maestro Maurizio e Paolo sono differenziate in base ai livelli in base alle cinture. Quindi in sostanza i ragazzi hanno questa sfida che è più una sfida con se stessi di riuscire a superare l'emozione. Quanti sono stati i bambini tra ieri e oggi? I bambini e i giovani atleti? Allora considerando che i B2 sono 46 25 e 30 erano questa mattina e una trentina forse anche il B0 di ieri. Quindi superiamo i 100? Sì, sì, sì. C'è una bella affluenza e ovviamente siamo molto contenti di questo anche perché vuol dire che insomma il lavoro che viene svolto dagli insegnanti è un ottimo lavoro ha dei buoni riscontri i bambini si divertono e riescono a mettere in pratica quello che imparano. Per questa edizione è tutto alla prossima! Grazie a tutti!